Allora, perché sei qui innanzitutto? Beh, 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 beh! Io sono... Il vento non lo sta facendo a cosa, eh! Vabbè! Io qua perché... Io sono qui perché sono stata di vivere una situazione in cui tutte le questioni che riguardano le donne, le soggettività e l'elgebiettità siano non al secondo ma all'ultimo piano in agenda politica e quindi siamo qui perché finalmente ci occupiamo noi stesse visto che le istituzioni non lo fanno. Ok, grazie. Posso farci una domanda? Posso farvi una domanda? No? Posso farvi una domanda? No. Ti senti qui? Il dovere di essere qui perché sei donna? Non parli. Ok. Quanto importante credi che sia essere qui? Credo che sia fondamentale essere qui, essere insieme, essere noi, esserci ogni giorno, ogni ora. Nessuna è sola. Ok, grazie. Questo è un messaggio più importante. Perché oggi è in generale di non una di meno. Se toccano una, toccano tutte. Rispetto anche ai fatti di Parma che sono successi tra Martina e Napoli, nessuno sta parlando. Grazie. Credi che la parità sia più difficile in Italia rispetto ad altri paesi d'Europa e perché? Io penso che in Italia sia più facile di altri paesi, sia più difficile ancora di altri, ma penso che in tutti i paesi del mondo c'è comunque disparità di genere. Ok. E questo... Pensi che una donna, una ragazza che abortisce sia giudicata male nel 2016? Sì, sicuramente viene stigmatizzata. Ok. Vi sentite in dovere di essere qui perché siete donne o perché siete esseri umani? No, rispondo io. Perché siamo donne. Perché siamo donne, ovviamente. Perché sono una donna. E le facciamo da sempre, guarda. Ok. E come rispondete a chi critica questo sciopero? Ma io non ho sentito molte critiche, comunque, voglio dire, ci stanno, perché questo è, come dire, questo è uno sciopero che è molto conflittuale. Esatto. Molto conflittuale, per cui è chiaro che le posizioni sono sempre molto chiare, no? Per cui, anzi, bene, che se ci sono posizioni contrarie, bene, possiamo dire. Se fossimo tutti d'accordo sarebbe una rottura di scato. Ok. Diciamo. Quindi va bene così. Significa che, come dire, stiamo incidendo. Ok, grazie. Diamo fastidio, va bene. Ok, grazie.